Hola, 5 settembre 2020, 74esimo compleanno di Freddie Mercury Buonaventura Music Club di Bucinasco Questa sera avremmo dovuto suonare noi dei Stone Cold Crazy in questa magnifica serata organizzata dalla Brighton Rock Events ma purtroppo a causa del nostro cantante che ha avuto qualche piccolo problema abbiamo dovuto cedere il posto in maniera anche molto naturale ai grandissimi Magic Queen che suoneranno questa sera in onore del grandissimo Freddie avrò l'onore di suonare con loro un brano ma non vi dico ancora quale Ciao! musica contro il covid siamo qui con Tommy, il batterista di Stone Cold Crazy ovvero la mia band ciao ragazzi siamo qui per vedere il Magic Queen e ci aspettiamo uno spettacolo grandioso per il 74esimo compleanno di nostro Freddie cosa hai da dire al nostro pubblico? no, lo rifaccio perché è bruttissimo e così si fa infatti lo so è come People Bound musica 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 chi abbiamo qui? Stefano Ragazzini sì dei Magic Queen buonasera a tutti come sapete anche lui è un grandissimo appassionato di Brian May e ha una chitarra che tra un po' vi dirà purtroppo stasera non l'ha portata perché sennò avrei fatto un video anche proprio da tipo film porno su una chitarra veramente unica comunque Stefano io sono contento di averti conosciuto c'erano già parlati su Facebook, social eccetera perché tra amatori d'altronde ci si conosce un po' tutti giustamente ecco vorrei sapere dato che stiamo facendo un video qua sul mio canale per approfondire un attimino l'aspetto Brian May che piace tanto agli amanti dei Queen e dei chitarristi in generale voglio sapere da dove nasce la tua passione per i Queen a che età ha iniziato a suonare la chitarra come mai ti sei indirizzato proprio verso un suono così particolare come quello di Brian May che è veramente difficile da ottenere anche se poi alla base c'è veramente poco come effettistica eccetera sì intanto io ti ringrazio per questo breve colloquio chiamiamolo così poi stasera sarà anche ospite nostro che suonarà una canzone che è la prima canzone del primo album di Queen che è Keep Yourself Alive quindi per noi è un onore ospitare il mitico Frank per me è un onore essere con voi quindi dopo questo in sostanza quando avevo nell'89-90 quindi avevo 7 anni sono nell'83 e mio fratello più grande ascoltava i Queen e metteva su sempre la videocassetta di Wembley e così e quindi dal demitio questo Wembley ha veramente infettato l'umanità è il peggio del virus del coronavirus è vero eh proprio parlavo anche con Luca Colombo di Colombo di Oletrona sì che saluto che conosco ciao ecco anche lui è stato veramente colpito dal Live at Wembley io anche è stata la mia prima cassetta di Queen le ho ancora una doppia cassetta che possiedo ancora e custodisco gelosamente sì quindi viva il Live at Wembley sì che ormai abbiamo consumato il nastro perlomeno assolutamente e poi dal di lì è nata la passione in prima superiore ho iniziato a suonare la chitarra perché appunto dai spinto dal dalla musica dei Queen in prima superiore ho iniziato a suonare la chitarra ho fatto qualche lezione privata poi ho fatto una scuola fra l'altro qui a Milano che è il CPM c'era Begotti già? sì c'era Begotti donato Begotti e la pietra la pietra mi sembra e quindi niente dopo piano piano mi sono formato quindi sono stato sia a scuola poi ascoltando ovviamente i dischi e poi ovviamente la miglior scuola di tutte che è suonare dal vivo per cui tu anche Frank sei meglio di me che poi la vera scuola te la fai poi suonando sul palco quindi è inevitabile io devo essere sincero suono da quando avevo 16 anni ne ho 43 a breve praticamente ah mi mostri meno grazie siamo nel 2020 43 anni benissimo diciamo che ho suonato dall'età di 16 anni ma ho sempre evitato di suonare i Queen perché le ho viste sempre una cosa quasi inarrivabile inarrivabile veramente sì quando forse sarà che la vecchiaia inizia a prendere cioè io io suono i Queen da molto poco rispetto a quanto tempo da quanto tempo li ascolto invece tu li suoni da molto più tempo di me immagino io sì dunque il gruppo è nato nel 2002 mi pare io nel 2002 suonavo heavy metal la manetta e basta sì è nato lì e poi anch'io facevo qualche progettino ah vedi sì sì un po' tipo extreme mister big che avevi detto metal mi è venuto in mente poi hard rock quello comunque sì è nato lì poi pian piano siamo un po' evoluti abbiamo iniziato dai ad arricchire un pochino di più quello che facciamo lo show che facciamo e e basta iscriviti al nostro canale un bel, un gol un vision un heart un soul un soul un plan un plan un vision 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 Grazie a tutti Andiamo adesso ad un attimo del dettaglio So che tu hai una chitanna molto particolare E che i chitarristi amanti di Brian May Bramano come fosse veramente Il sacro gral Esatto Cioè che chitarra hai? Dunque intanto è stato un bel Un buon investimento Ed è una Guyton Praticamente che è il liutaio che poi Tutt'ora le fa per Brian May Che ha fatto un piccolo restauro alla sua Brian May gli ha fatto vedere i piani Della costruzione della sua chitarra Gli ha fatto ovviamente visionare la sua chitarra Ha parlato con Pete Malandrone Che è il tecnico di Brian May Si sono conosciuti perché Gli hanno fatto prima restaurare La vecchia Ekmond acustica Che gli aveva da bambino E dal diri dopo è nata questa collaborazione Ha fatto queste Sono 50 chitarre, 10 sono verdi E 40 invece sono rosse Dello stesso colore insomma dell'originale E io avevo adocchiato un ragazzo Che ce l'aveva Che è Enrico Qualtieri Che saluto E poi gli ho fatto una proposta Ho chiesto come quando ci si sposa Lo hai sedotto Lo ho sedotto Con il vino e denaro Esatto Sostanza si E alla fine me la sono portata a casa Eh certo Una grande invidia da parte mia Anch'io una bellissima chitarra Devo essere sincero Che con la mia Carpinteri Mi trovo da Dio Però è proprio una questione Di prestigio assoluto Questa Gaiton Beh si è una bella Veramente una bella chitarra E poi il colore Cioè io veramente Le vedi di tutti i tipi Di tutti i tipi di rosso Si Di che colore è sta chitarra Io avrei voluto vederla stasera Si in realtà La chitarra non è rossa Cioè se tu la guardi Alla luce normale Così come se ce l'avessimo qui Ragazzi non è rossa No non è rossa Infatti ho anche Quando Eh L'avevo vista in foto Nella foto che aveva postato Enrico Il ragazzo che mi ha venduta Gli avevo chiesto Ma sei sicuro che Vada bene il colore Allora lui Ha chiesto con Con Gaiton Il quale gli ha risposto E gli ha detto di si Che il colore ovviamente è quello E che se tu vedi anche la chitarra originale Nella camera Nel salotto di Brian Praticamente non è rossa Non c'è rosso Il rosso viene fuori soltanto E Puntandogli magari Facendo delle foto con flash Oppure puntandogli delle luci E quindi cambia anche colore Diventa giallo Diventa rossa Diventa marrone Chiaro Marrone scura Un po' Così Però non c'è rosso Ma senti è una leggenda O è vero Secondo te Il fatto che la vera Red Special Non sia quella Che viene utilizzata Poi dal vivo Secondo me È una leggenda Per me è quella Anche secondo me Per me è quella Perché dopo magari Guardi Delle determinate foto Vedi alcune venature Che il legno ovviamente È unico Quindi vedi alcune venature Che poi riscontri Anche nelle foto Invecchie foto Secondo me è vera Poi anch'io ho sentito Queste cose qui Però secondo me è vera È lei Invecchie foto E le Grazie a tutti Questa sera sarai qui con un box, ho visto Sì, un box Ok, che altro tipo di strumentazione hai? Allora, dunque, oltre alla chitarra ovviamente ho dei treble booster di Fryer, alcuni Dopodiché ho l'accordatore, un 3-wheel splitter di Cornish e l'autofiltro della... Ah sì, per I want to break free Esatto, per I want to break free Ma il Maxon... Sì, ho il Maxon Devo prenderlo Sì, è figo quello, se ha quel suono lì è bellissimo Io ho un Electro Harmonix Ah, ho capito Diciamo che fa il suo lavoro Sì Però avere quello, insomma, è un obiettivo Anche tu i treble booster? Sì, 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 i treble booster anch'io Ultimamente sto usando quelli di Luca, di Luca Colombo Ah, sì Li trovo molto bene, sto testando ultimamente il Lingotto Ah Il Lingotto, il famoso dual treble booster per ottenere il suono proprio del Live at Wembley Sì, sì Ciao Luca Quello ha anche un... Lui so che ha anche costruito un emulatore di Vox C30, è corretto? Esatto, sì, sì Anche lui lo sto usando da un po' di tempo Come? È molto pratico e soprattutto fedele Sì? Sì, sì, sì Secondo me dà grandi soddisfazioni Sì, sì E tu hai anche i Vox o so che è un sistema particolare? Sì Io uso il digitale Una bestemmia Io una bestemmia, però mi trovo bene Devo essere sincero che la praticità del digitale non l'ho riscontrata in tutti i valvolari eccetera Sì È tutta un'altra sensazione, un'altra pasta sotto le dita ovviamente Ti devi abituare Sì Però per l'ascoltatore ho avuto spesso complimenti da parte di fonici soprattutto Che ascoltavano Tutto ben bilanciato Esatto Sì, sì, la praticità del suono digitale è assoluta Bisogna saperlo usare Sì È molto delicata come situazione Sì È tutto sotto i tuoi piedi Sì Ti memorizza i tuoi suoni e dopo ce li hai sempre Sì Adesso sto facendo un video che prossimamente pubblicherò Proprio sulla Line 6 Elix che è quella che utilizzo io E condividerò la mia patch con la quale praticamente si possono fare tutti i pezzi più famosi dei Queen Bisogna fare anche Brighton Rock Sì Con i vari delay Phaser Chorus Autofilter eccetera C'è di tutto Tutto lì Ah molto Ovviamente il profumo del Vox del pedale è inimitabile E' inimitabile Certo E' un compromesso Diciamo E' un buon compromesso direi Perché anche io sono pro alla tecnologia E poi la schiena Infatti stavo per dire che 3 Vox sono fighi se qualcun altro te li monta Io ho visto gente Tra noi malati c'è gente che si porta in giro 9 Vox Sì Io lo farei se avessi qualcuno che me li porti Sì Poi anche a livello economico Una gran spesa Sì Una bella spesa Sì Vabbè Io ne ho 3 mi bastano e ne amazzano Da portare Sì Però ovviamente da una bella soddisfazione Perché anche quando fai solo degli accordi Per dire hai una potenza Un avvolgimento Un suono Un corpo unico Sì Assolutamente Poi spinti così al massimo Dai Rendono Sì Senti proprio il suono vero Sì Per quanto anche io sia come te pro Alla modernità Alla tecnologia Diciamo che fino a qualche anno fa Era un po' un limite quello del digital Sì Però già col camper Per dire Col camper si sta Vero Aprendo anche molto la mentalità Sì Si sono avvicinati Hanno capito che in effetti Questo suono digitale Non è così male No Anche perché Poi dipende tutto il relativo Nel senso che dipende un po' Che genere fai Se tu ti ritrovi ad essere Per dire il chitarrista della Pausini Dove il concetto è quello di avere Magari il palco spoglio Quindi senza amplificatore Nudo Senza spie Tutti in cuffie Armonitor eccetera Ovviamente Magari col camper Studiato prima a monte Nella preproduzione Con il fonico Che ti segue un po' Ti dirige un po' No? In più hai anche la possibilità Di Di rifarti Di farti un suono Per ogni canzone No? Di profilarti tutti gli amplificatori Per cui se ti ritrovi a fare Un genere Magari pop Come ho detto Pausini Però poteva essere Biaggiantonacci Così no? Quindi ti ritrovi In una situazione del genere A quel punto Piuttosto che avere Il muro di amplificatori dietro Che figo Bello e tutto Però non è proprio Magari nel genere In quel momento In quella situazione giusta Da usare In più non hai tutta Quella versatilità Che comunque una macchina Alla fine ti può dare E poi Se vai a sentire Magari la Pausini Però magari i suoni di chitarra Sono un pochino Meno protagonisti Rispetto Esatto Hai detto il termine giusto Meno protagonisti Quindi alla fine Anche se lì c'è i facchini Che ti portano Comunque Ti porterebbero gli amplificatori Comunque In un contesto del genere Secondo me È giusto utilizzare Una macchina Come il camper Esatto Diciamo che abbiamo stressato Abbiamo stressato Abbiamo stressato sostanza il nostro stefano per me è un piacere è un onore conoscerlo quindi adesso lui salirà sul palco con i magic queen qui abbiamo un altro personaggio ciao e niente dai in bocca al lupo per il vostro live ci vediamo sul palco ci scambieremo la posizione veloce veloce poi vedrete anche frank in azione sul palco con noi lo vedo l'ora speriamo di non fare cappellate assolutamente no perché frank è bravissimo ho ascoltato i suoi video ho ascoltato le sue cose e veramente è veramente molto bravo e sa spiegare bene le cose quindi continuate a seguirlo continuate bene a seguirlo e che fate bene e basta ok buon live e tanti auguri a freddi mercoli per il suo 74esimo compleanno si perché oggi è il 5 settembre 2020 stefano è stato un piacere grazie frank ciao ciao a tutti ciao a tutti ecco ci vediamo qui stasera nel canale youtube e vorrei presentare colpa a cui insieme a loro io scendo e gli do il cambio così vado fuori a fumare la sigaretà il mitico frank cappese ecco ci vediamo qui stasera nel canale 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 Ah No Grazie! Grazie! grazie a tutti 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 grazie a tutti